E' così alla bustina del cibo Oh, un bot Mio Dio ragazzi Più di un milione di cibo Mamma mia No, non un milione, sto scherzando Ma Siamo pazzi noi Vabbè facciamo così Ecco Così ho portato il triccio Al 40 Sapete che faccio? Attivo questo Così ci mette 3 ore A sbloccarsi E Voglio dar da mangiare un piccolino Un bellino, un perinino Qui ho la lanca Faccio salire di un botto lei Vai, vai Facciamola salire Vai Vai Oh, vai Vai Ecco qua Al 21 Vai Al 30 La porto al 30 Raga Andiamo 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 E vai Qui con gli ibridi Vabbè L'ho già fatto Lo voglio portare lì Uno al 40 Perché La mia bellissima Alanka Sta molto simpatica Dov'è l'Alanca? Alla Allora Non so Cosa portare avanti Il dilofosauro Secondo me No Anche se fa Al 40 Fa tanto E quindi Io lo faccio Questo Io non li avevo mai visti Quindi Dai Lo facciamo un po' Aumentare un pochetto Giusto Giusto per Non ho mai voluto Aumentare un dilofosauro Adesso lo faccio Perché 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 Sì Lo faccio così E non accelero Qua lo lascio nel combattuto Io Va bene Beh Posso 20 minuti 20 minuti Ci stanno Va bene Li posso lasciare Su youtube Non lo so Non lo so Perché Non lo so Quindi No Sì Posso Però No Voglio diventare Fib Ciao Ciao Questa non poteva essere qua No Poteva No Orpuro appena arrivo a 10.000 di puntabilità ci provo voglio fare sono più punti fedeltà per completare il tuo acquisto tieni picchietti di carte per guadagnare più punti fedeltà oggi stesso qui prendo questi perché le missioni giornaliere sono molto importanti ecco livello 21 possiamo fare la battaglia ma facciamo dopo un pochetto misterioso me lo prendo molto volentieri 15 punti fedeltà questo non lo voglio anche se lo voglio non lo prendo perché il leone marsupiale voglio io via non la posso prendere offerta unica va bene coccola una creatura coccoliamo il nostro piccolo triccio cioè prima era così poi così poi così e fine così allora beh usa tre diverse classi di dinosauri terrestri in un combattimento due volte lo devo fare faccio questo faccio questo qui questa gente è troppo forte sono sicuro è troppo forte questa gente beh devo mettere dovrei mettere l'opteramodont che ci mette 24 minuti qua lo sblocco lo sblocco perché uno perché due e perché tre sei brutto sei molto brutto capito ragazzi ok attaccami vai bravo boom mi paro giusto per ok non scambiare anche quindi sei anche gentile quindi io basta che ti faccio cioè ti devo fare per forza tre per ucciderti ah ah ok questo su questo non me l'avevi detto no cattivo non mi ha ucciso ti è beh potevo anche scambiare con questo tizio qui però non l'ha fatto non l'ha fatto quindi è un tizio molto gentile quattro mi fai quattro io ti ammazzo perché cambio dinosauro ecco allora quattro quanto mi attacchi mi fai tre se mi fai tre mi uccidi ma tu ti pari di uno e io facendo quattro faccio tutti e cinque così lui si pari di uno e lo massacro vada boom ok ecco come si vincono le partite è molto semplice ah e non ho la webcam perché questo programma non l'abbiamo ancora capito come funziona e non abbiamo capito come si mette la webcam eccoti qui buongiorno signorino molto simpatico mi stai ti metto insieme alla gente dove sei ecco buongiorno no perché 25 ah giusto c'è il carnotauro tu quanto fai signorino schiuditi un po' va schiuditi un po' eeeh boh qui non posso andare avanti non posso ancora andare avanti perché ho appena cominciato il livello 21 21 e qui di raptor vorrei aumentarlo un pochettino 49 mila dai charlie eeeh vai obbedienza 2 si è salito di livello ah vai tocca per girare eeeh boh se me lo tipo adesso dai un po' avanti un po' avanti un po' avanti un po' avanti vabbè ho sbloccato ecco ecco ciao ecco ok ok allora qui non so quando fermare tipo ora vai cosa di buono fermati 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 qua grazie 37000 ma voi siete pazzi ecco ci vediamo qualche altra volta 5 livelli di obbedienza porto avanti i charlie se devo portare qualcuno avanti ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete un mi piace se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da Leonardo e beh Jurassic World The Game Jurassic World il gioco ciao ciao Leonardo di con Mauro e Trici ci danno tanta allegria c'è la simpatia dei video di Leonardo di